Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City, in apertura sempre l'emergenza sanitaria. Ieri sera il Presidente del Consiglio ha illustrato in conferenza stampa il nuovo DPCM che non aggiunge limitazioni significative alla libertà dei cittadini, punto nevralgico, la scuola, il Governo conferma la scelta di tenere gli istituti aperti. E' sempre ieri sera show del Governatore della Campania De Luca nella trasmissione di Fazio. Facciamo il punto della situazione contagi anche nella provincia di Napoli, boom di contagi ad Ercolano e Torre Annunziata. A Torre del Greco invece i cittadini intervistati da TV City chiedono maggiori controlli. Spazio anche alla cronaca con le due operazioni della Guardia di Finanza a Napoli e a Torre Annunziata. Infine la consueta pagina sportiva del lunedì con la Turris finisce in pareggio il match domenica a Liguori con il Monopoli. Colantonio commenta soddisfatto l'apertura degli stadi. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Nuovo DPCM stop a Movida ma scuole aperte, firmato al Governo Conte per fronteggiare l'aumento esponenziale dei contagi nelle ultime settimane. Il nuovo decreto non ha aggiunto limitazioni significative alla libertà dei cittadini. Il coprifuoco tanto temuto si riduce alla chiusura di tutti i ristoranti, bar, pub, pizzerie e simili alle 24. Dovrà essere affisso un cartello all'ingresso in cui viene segnata la capienza del locale nel rispetto della distanza di sicurezza fra ogni tavolo e posto a sedere. Qualunque esercizio non disponga di coperti dovrà chiudere alle 21. Tuttavia l'asporto resta consentito fino alle 24, una decisione che fa discutere. Se l'obiettivo era fermare la Movida, l'asporto potrebbe solo far spostare gli avventori del locale per assembrarsi qualche metro più avanti. Sempre per frenare la Movida è stato affidato ai sindaci il potere di chiudere determinate strade o piazze del comune per bloccare zone altamente frequentate. Non vengono tuttavia fornite altre direttive su questa possibilità e non vengono posti i limiti entro cui i sindaci devono intervenire. Tutto è quindi lasciato alla piena discrezionalità dei primi cittadini. Altro punto nevralgico del DPCM è la scuola. Il governo ha confermato la scelta, più volte ribadita dalla ministra Zolina, di lasciare gli istituti aperti e consentire le lezioni in presenza. Tuttavia le scuole potranno adattarsi alla situazione epidemiologica locale utilizzando la didattica a distanza o dividendo gli orari delle classi. Le lezioni potranno quindi essere spostate anche al pomeriggio per non creare assembramenti fra gli alunni di varie classi. In ogni caso questo vale solo per gli istituti superiori, mentre per tutti gli altri resta invariata la didattica in presenza tradizionale. Le disposizioni riguardanti la scuola entreranno in vigore a mercoledì 21 ottobre, dando così tempo utile agli istituti per organizzarsi. Non è chiaro se in questo periodo la campania si edeguerà a quanto disposto al decreto o si continuerà con la didattica a distanza obbligatoria decisa dal presidente Eluca con l'ordinanza di giovedì scorso. Vietati sport da contatto a livello direttantistico ed amatoriale. Per le palestre invece restano dubbi. Il Premier ha evidenziato che mentre alcuni centri sportivi rispettano tutte le direttive anticontagio, altri agiscono in modo sconsiderato. Pertanto lo stesso Conte ha dato un ultimatum. Daremo una settimana per adeguare i protocolli di sicurezza e per verificarne il rispetto. Se questo avverrà, ovviamente con il coinvolgimento anche del competente giudizio del Comitato Tecnico Scientifico, non ci sarà ragione di sospendere e di chiudere le palestre. Altrimenti la settimana prossima, lo preannuncio con molta chiarezza, saremo costretti a sospendere anche l'attività sportiva che si svolge al chiuso nelle palestre e nelle piscine. Restano vietate feste di paese sagre, ma si consentono le grandi fiene nazionali. Una decisione necessaria per favorire il rilancio dell'economia. Ed è proprio il compromesso fra economia e salute che sembra caratterizzare tutto il nuovo DPCM. Lo stesso Premier ha esordito nella conferenza stampa di ieri parlando della gravità della situazione epidemiologica, ma evidenziando la ripartenza economica del paese e spiegando che un nuovo lockdown avrebbe fermato questo dato positivo. Dobbiamo agire mettendo in campo tutte le misure necessarie a scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. Il paese non può permettersi una nuova battuta d'arresto che finirebbe per compromettere severamente l'intero tessuto economico. De Luca Show da Fazio. Ieri sera, pochi minuti prima della conferenza stampa in cui il Premier Conte ha annunciato e spiegato il nuovo DPCM, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è stato ospite a Che Tempo che fa, storico programma di Re 3 condotto da Fabio Fazio. Il Governatore è esordito fornendo qualche anticipazione sul decreto in uscita. Prima della firma, infatti, il Governo aveva incontrato i Presidenti delle Regioni per informarli sulle nuove disposizioni. De Luca non sembra aver apprezzato le misure adottate. Come al solito, una via di mezzo, commenta. Disposizioni poco chiare. C'è qualche punto interessante, ma alcune scelte sono incomprensibili. L'anticipazione che è arrivata a noi ha delle cose interessanti, almeno dal punto di vista di una nuova consapevolezza della gravità del problema, ma presenta anche per un'occhiata che ho dato a questo testo. Non so se sarà quello definitivo anche elementi di grande ambiguità, come sempre, e di cose a metà. Tuttavia, il Governatore non ha potuto approfondire i punti del DPCM prima della conferenza stampa ufficiale di Conte. Si è limitato quindi a ribadire le criticità della Campania, come la densità abitativa e la mancanza di personale sanitario, ed a rimarcare lo sforzo e il lavoro che sta facendo per salvare la popolazione dal virus. Il discorso ha preso poi una piega più leggera quando Fazio ha ricordato la discussa diretta ai venerdì, in cui De Luca aveva definito Halloween un'inutile e stupida americanata. Parole forti che hanno sollevato numerose polemiche. Il Governatore, invece di giustificarsi, ha rincarato la dose. Non penso che avremo qualche incidente diplomatico per questa imbecilità che è Halloween. È una cosa idiota che serve solo a incrementare i consumi inutili nel nostro paese come in America, quindi non c'è nessun problema. Scatenato anche su Juve Napoli, commentando la sentenza che ha decretato la vittoria a tavolino dei bianconeri. Hanno creato una situazione di tale confusione per cui un'intesa fra privati, il protocollo che riguarda la Federcalcio, dovrebbe addirittura essere prevalente sulle disposizioni sanitarie del Ministero della Salute. Ma queste sono cose non da paese serio, ma da circo equestre. In ogni caso, al di là di tutte le stupidaggini che si sono dette, l'ASL ha fatto nient'altro che il proprio dovere, cioè ha riservato ai giocatori del Napoli lo stesso trattamento che viene riservato a ogni cittadino in Campania. Poi, per quanto riguarda la sentenza, è una sentenza limpida come una scodella di bagna cauda. In conclusione, De Luca ha poi voluto ricordare la sua prima intervista con Fazio a fine lockdown in cui aveva definito il conduttore un fratacchione. Mi raccomando, fate tutti i tamponi all'ambazia. Prosegue l'attività di screening su tutto il territorio del Vesuviano. Sale la curva dei contagi, con i sindaci che si appellano al senso di responsabilità dei cittadini e promettono impegno nell'aumento dei controlli. Quattro nuovi casi registrati nel Comune di Torre del Greco, nella giornata di ieri. I nuovi positivi, tutti in forma sintomatica, si trovano ora in isolamento domiciliare. Sale quindi a 60 il totale di attualmente contagiati in isolamento domiciliare, a cui vanno aggiunti cinque ospedalizzati. A Ercolano sono 72 i tuttora contagiati dal Covid. In diretta Facebook, il sindaco Ciro Buonaiuto precisa che solo alcuni degli attuali positivi presentano sintomi febbrili. Il primo cittadino invita gli abitanti di Ercolano a mantenere comportamenti responsabili e promette il massimo impegno nella gestione dell'emergenza, a partire dall'aumento dei controlli. Nella giornata di venerdì, registrati due deceduti per patologie pregresse all'interno della casa di riposo Pio XII di Portici. A comunicare la notizia dell'accaduto è il sindaco Enzo Cuomo, che specifica come soltanto uno dei deceduti fosse positivo al Covid-19. Un quadro della situazione già drammatico che va ad aggiungersi all'aggiornamento sulle scuole. Sono 58 i positivi tra studenti e personale scolastico nel comune di Portici, a fronte di 700 tamponi. Da registrare inoltre la positività al virus di uno degli assessori dell'Aggiunta Comunale. A San Giorgio a Cremano, nella giornata di ieri, il sindaco Giorgio Zinno ha comunicato il riscontro di ben 70 positivi all'interno di una casa di riposo. Zinno, poche ore prima, aveva già annunciato il superamento della quota 100 contagiati da Covid. Sono 106 attuali positivi nel comune di San Giorgio, di cui 4 ospedalizzati. Continua l'attività di controllo a Castellammare di Stabbia. Strade blindate e pattuglie in giro nelle ore notturne, per contrastare la trasgressione delle norme anti-Covid-19. Sono 10 nuovi casi di contagio nello Stabbiese, registrati nella giornata di sabato 17 ottobre. Sale quindi a 122 il numero di tuttora positivi al Covid, 206 in totale, dall'inizio della pandemia. Nuove misure anti-Covid-19. Alle telecamere di TV City abbiamo raccolto i primi commenti dei cittadini di Torre del Greco, che, tra dubbi e perplessità sulla gestione dell'emergenza, lamentano l'assenza dei controlli. Ai nostri microfoni i torresi si sono espressi inoltre sul nuovo decreto ministeriale illustrato ieri sera dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa. Il provvedimento conterrà tutte le misure necessarie al contenimento della nuova ondata di contagi e servirà a scongiurare un nuovo lockdown. Nuovo decreto del Premier Conte, nuova stretta per il contenimento dei contagi, che cosa ne pensa? Penso che è un po' giusto, perché per me sembra veramente, perché in questa situazione come stiamo andando non andiamo avanti. Ci vuole una frenata, perché troppo assenblemente i giovani, li capisco, però devono anche loro collaborare con Conte. È qualcosa ancora che non sto chiudendo proprio tutto. Questo è già una fortuna qui a Torre del Greco e tutta la campagna, anche per tutta l'Italia. Già fino a mezzanotte i locali, già per me è una cosa giusta, però che troppo assenblemente anche nei ristoranti, nelle barri, in mezzo alla strada, non è bella per noi, per i nostri figli e per i bambini. Io questo lo apprezzo del Signor Conte. Io lo posso dire al Signor Conte perché veramente sta combattendo per l'Italia e per tutti quanti noi. Speriamo che Dio dà la forza e che ci aiuta a tutti quanti, anche a voi che siete giornalisti, che vi state impegnando anche voi, di guardare e vedere gli assemblementi e faccio anche a noi, anche a voi che rischiate anche voi tanto di questo grande problema che stiamo affrontando. Ma ce la faremo. Se ascoltiamo il Signor Conte, lo dico ancora il Signor Conte, che è un padre di famiglia, anche lui, e capisce la situazione di noi italiani. Dobbiamo solo essere molto intelligenti, anche noi, nei suoi confronti. I sindaci dei comuni del Vesuviano promettono maggior impegno nell'aumento dei controlli. Che cosa ne pensa? Secondo lei ci sono attualmente i controlli? Niente, te la posso giurare. Guardi, sto combattendo anche, non vedo ancora. Io sono da quando è iniziato il tampone, se lei mi guarda, doppia mascherina che non viene a me nessuno a controllare. Me lo controllo io stesso, mi ho comprato quella macchinetta, sai che le temperature vengono di uscire con la speranza che dico, ma è un tampone, doppia mascherina. Però io quello che sto vedendo, in particolare qui a Toroteca, non ho visto ancora un tampone fare o bloccare le persone in strada, dicono, ma venite a così, tre o quattro di voi. Veniamo un po' qua a discutere, fammi vedere, perché sono questi qua, queste gente che è positiva, questi là che hanno e non lo sappiamo, voi vi mettete a giocare senza mascherina, l'intelligenza non c'è, i sindaci qua non fanno niente. All'inizio c'era polizia, via scorrente, l'esercito e scombasta tutto. Come è salito il nostro sindaco di Napoli, là, di lui? Io non sto vedendo niente più. Dimmi tu, l'ho dato il voto anche a loro, con la speranza che migliorava ancora perché lo vedeva un uomo giusto, combattente, ma quella combattente? Ha avuto i fatti suoi, scusatemi che lo ve lo dico, non ho fiducia più perché guarda, siamo in balia, vedete voi stessi qua, camminano la gente senza mascherina, vedete di qua, se ne fottono proprio, ma dimmi tu, come possiamo vivere? Dimmi tu, come possiamo vivere? I sindaci del Vesuviano promettono impegno nell'aumento dei controlli, cosa ne pensa? E' giusto, fare dei controlli è la cosa minima che possono fare, con quello che sta succedendo con questa epidemia, è un'ottima cosa. Secondo lei la gente rispetta le regole? No, molto di loro non rispettano, ma non capiscono, è un bene per tutti quanti, allora non si può andare contro alla massa, quelle che sono sascurate, che non mantengono le cose che bisogna fare, comportarsi un po' più civilmente, diciamo civilmente. Servirebbe impegno quindi secondo lei da parte delle persone? Sì, sì, servirebbe proprio questo, perché poi non è una cosa molto difficile, neanche a capire, è una cosa normalissima. L'importante è che non ci limitano il lavoro, tutte le stritte possibili, ma il lavoro altrimenti facciamo tutto e fino a tutti. Elemento contraddittorio sulle scuole, per Conte possono rimanere aperte, per De Luca ancora no, fino al 30. Diciamo, a guardare le volverse delle cose, fin quanto è possibile i bambini devono andare a scuola. Per quanto riguarda i controlli, qui a Torre del Greco, ci sono i controlli per il rispetto delle regole? Non ne vedo tanti, ultimamente non vedo controlli. Usura fra Torre Annunziata e Castellammare, racket da un milione e mezzo di euro. La Guardia di Finanza ha portato a termine una serie di controlli fiscali nei confronti di 17 soggetti. In particolare, l'obiettivo delle fiamme gialle del gruppo di Torre Annunziata è stato quello di intercettare e misurare l'effettiva capacità contributiva derivante dai tassi usurari. L'imposta è vasa complessivamente recuperata a tassazioni a monto a quasi 400.000 euro che ora dovranno essere versati all'erario. Si tratta di soggetti recentemente destinatari di misure di custodia cautelare e di sequestri patrimoniali del valore di oltre 2 milioni e 400 mila euro. Per recuperare i soldi delle vittime ricorrevano spesso a pesanti minacce, atti di violenza fisica o addirittura l'uso delle armi. Alcuni degli usurai sottoposti a controllo fiscale gravitavano in ambienti della criminalità organizzata, in altri casi sono risultati legati da vincoli di parentela narcotrafficanti di spessore internazionale. In altri ancora si è trattato di imprenditori e professionisti che avevano persino costituito una vera e propria cassaforte in Svizzera, le cui provviste finanziarie venivano utilizzate per alimentare i prestiti usurari. Farmaci di contrabbando all'aeroporto di Capodichino Nel corso di un controllo presso lo scalo partenopeo, i funzionari dell'Agenzia delle Dugane e dei Monopoli hanno rinvenuto nelle valigie di un passeggero di nazionalità ganese in arrivo da Istanbul oltre 3.700 compresse medicinali e farmaceutiche, prive di ogni certificazione richiesta dalla normativa nazionale e comunitaria. I prodotti sono stati sottoposti a sequestro e il passeggero denunciato all'autorità giudiziaria per violazione della normativa di settore. Il risultato si inserisce nel quadro delle attività di controllo svolte quotidianamente dai finanziari e dai funzionali dell'Agenzia delle Dugane all'interno degli spazi doganali, volte alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica messa a rischio da prodotti illegali di scarsa qualità. Turris prima nel girone con Teramo e Bari, 10 punti in 4 partite e striscia positiva che continua. Una partita, quella con il Monopoli, complicata, con i corallini in difficoltà soprattutto nella ripresa dopo la rete del vantaggio che porta alla firma di Vandolfi. Sul match si è pronunciato anche il presidente Colantonio, che parla di punti importanti contro una squadra ben messa in campo come il Monopoli. Secondo il Patron, sarà una stagione non semplice, con tutte le squadre impegnate spesso nei turni infrasettimanali e sarà quindi fondamentale recuperare al più presso tutti gli infortunati. Il presidente dei corallini si è espresso anche sulla riapertura degli stati. Esperimento riuscito. Si è assistito alla partita in totale sicurezza, grazie alla buona sinergia con gli organi preposti. Il pubblico si è tenuto alle disposizioni e spero si sia divertito. Queste le sue parole. Colantonio aspica inoltre un possibile aumento delle persone che potranno accedere allo stadio, augurandosi di riempire gli spalti con almeno mille unità. Grazie a tutti per la cortese attenzione. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare una mail all'indirizzo redazione chiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani per una nuova edizione aggiornata del nostro telegiornale. Grazie a tutti.